L'ex deputato di Forza Italia, Amedeo Matacena, 59 anni con più di l'altro ieri, è morto a Dubai. La causa del decesso, secondo quanto si è preso, sarebbe da attribuire ad un infarto. La notizia che si è diffusa nel pomeriggio di ieri a Reggio, la città in cui Matacena aveva vissuto prima di trasferirsi a Dubai, è stata confermata dai regali dell'ex parlamentare. Si tratta di l'avvocato Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna. Matacena, che deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale, viveva negli Emirati Arabi da circa dieci anni, dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. In passato Matacena era stato legato all'annunciatrice televisiva Alessandra Canale. Dopo il divorzio dall'ex moglie Chiara Rizzo, si era da poco risposato con Maria Pia Tropepi, ex modella e medico. Il padre di Matacena, lo ricordiamo, Amedeo Senior, morto nel 2003, aveva creato la società Caronte per la gestione dei servizi di traghettamento nello stretto di Messina ed era stato anche presidente della regina Calcio. Matacena era stato eletto nel 1994 alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Era stato più volte indagato e aveva goduto del sostegno dell'Aggiunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che ha sempre dichiarato la sua insindacabilità dalle opinioni espresse, specie in alcune interrogazioni parlamentare e in altre interviste per le quali aveva avuto numerose denunce per diffamazione nei confronti del magistrato della DNA Enzo Macri, uno dei PM più esperti che da oltre 30 anni è stato in prima linea contro l'andrangheta calabrese. Nel 2004 è stato arrestato dalla procura di Catanzaro nell'operazione sul caso Reggio, ma poi è stato assolto. Nel 2014 la DDA di Reggio Calabria e il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo avevano chiesto il suo arresto nell'ambito dell'inchiesta Brad Fast, in cui era accusato di intestazione fittizia. È l'indagine che ha portato all'arresto della sua ex moglie Chiara Rizzo e all'ex ministro dell'Interno Claudio Scagliola, accusati di procurata in osservanza della pena e condannati in primo grado rispettivamente a uno e due anni di carcere. Nei confronti di Madacena però la DIA non è riuscita a eseguire il provvedimento di arresto perché l'ex parlamentare si era trasferito a Dubai dopo una breve permanenza alle isole Seychelles. A causa della mancata estradizione degli Emirati Arabi, quindi l'ordinanza è rimasta tale fino a poche settimane fa quando il GIP l'ha revocata a causa del lungo tempo trascorso alla data di commissione dei reati contestati Grazie a tutti i nostri dati.